Anche con Gesù si parla di relazione. Also, Gesù parla di relazioni. Sì. Ovviamente, sì. Tutti quelli che sono nell'amore prima ti dicono che prima devi iniziare una relazione. Però se prima non incontriamo una persona spirituale, le nostre relazioni si esprimeranno nella materia, nel mondo materiale. E cadiamo di continuo. Perché non funziona. Perché senza l'incontro con una persona spirituale, più cerchiamo di credere e più ci aumentano i dubbi. Quindi è anche una buona fortuna. Non ho troppo sentimento con nessun posto che è lì. Quindi è anche una buona fortuna quella di non avere tanto sentimento. Perché se no ci bruciamo. Quindi più facile, trovi uno scopo e... In India, hanno tanti sentimenti e tante relazioni. Però... Maraja dice onestamente, però non sono fissi su Krishna. Piu, rare. Invece, gli occidentali hanno questa fortuna che sono totalmente bruciati e quindi possono andare verso Krishna più velocemente. Io ero sentito e ho realizzato questo in prima volta. Ma bene, se siamo indiani ultimi vivi. Potremmo. You get it everything and now you have every place no way to get it. So you have to go this way, no way. You have no way to go other places. Because you try to invest in world everything and now only one way would have to come. E quindi siete stati da tutte le parti, avete provato tutto, non avete nessun'altra direzione nuova da percorrere, quindi l'unica cosa che vi è rimasta è la spiritualità, la direzione. It's good luck, let's try with God. Proviamo con Dio. È una grande fortuna. But if you try with God it will not work. Ho riaperto la pentola. Però io ho detto, allora proviamo con Dio. E lui dice, no, se provi con Dio non funziona. Perché comincerai a chiedergli qualcosa. E quando provi con Krishna, Prajendra Nandana, allora devi dare te stesso. Te stesso. Lì non c'è questa cosa di chiedere, non si chiede. Devi dare. Amore è dare. Questo è il significato dell'amore. Prem na Bali, Upa Jai, Prem na Hat Bikari. Prem, you cannot go and cultivate in garden. Prem, l'amore, l'amore non è la cosa che la puoi coltivare nell'orto. E non puoi andare al supermercato e dici, io voglio comprare il Prem. E non puoi andare al supermercato e dici, io voglio comprare il Prem. C'è tutto nel supermercato, ma il Prem non ce l'abbiamo. Raja, se il Raja, il Raja, è un uomo semplice, c'è una condizione per questo. Quindi è un Raja, una cosa da... Il Raja, il Raja, il Raja. Raja, se sia che tu sia un uomo ricchissimo, sia che tu sia un poveraccio, C'è una via sola, una sola condizione, ti devi tagliare, ti devi tagliare la testa. Significa che ti devi tagliare via il falso ego. Ti devi arrendere. C'è una sola condizione. Però è difficile. Però è l'unica condizione dell'amore. Si capisce? Si capisce? Eh... Yes, ma... Yes, ma... Anche Gesù ha vinto il mondo. Gesù è venuto per prepararci a questo. Ma... Però... Che è successo? Eh... E quello che diceva Gesù era, io vi posso dire tante cose, ma non siete pronti ad ascoltarmi. Quindi come ascoltarmi. Come ascoltarmi. E' venuto Mahaprabhu per darci la chiave per ascoltarmi. Quindi è venuto Mahaprabhu per darci la chiave per ascoltarmi. Cosa vuole dire e non siamo pronti ad ascoltare, senza Chaitanya, non possiamo capire. Quindi tutto quello che Gesù voleva dire che noi non potevamo in quel momento ascoltare, è venuto Shaitanya Mahaprabhu e ci ha resi pronti ad ascoltare. Non c'è altra via. Non c'è altra via. Io ho fatto ricerche, dice Gesù. E ero nel processo di questa via. Io amo Gesù. Mi mostro passo a passo in modo 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 in modo. Mora Gio dice che lui ama Gesù. E' Gesù che gli ha mostrato passo per passo il processo di questa via. Grazie.